buongiorno buongiorno cari amici del canale buongiorno dal vostro nick juve oggi il titolo del video è come avete potuto notare porte girevoli perché comunque si sta parlando di un po di situazioni e di operazioni quali sembrerebbero già concluse quali comunque come impostate come trattative quindi tutto da verificare e da realizzare effettivamente si parla già di un Kuluseski ceduto per una trentina di milioni al Tottenham si parla di un Milik riscattato per quei circa 7 milioni di euro che voleva il Marsiglia Marsiglia con il quale bene o male dei rapporti con alcuni collaboratori all'interno c'erano già perché erano stati già anche in orbita dirigenza juventus quindi erano anche stati all'interno proprio della juventus quindi ottimi rapporti quindi anche l'operazione di Milik è andata diciamo bene o male in porto adesso si parla di una possibile idea casa dei che potrebbe essere l'alternativa a frattesi adesso casa dei bene o male ha fatto anche è stato premiato se non erro come miglior giocatore del sub 20 della nazionale italiana ho visto qualche highlights diciamo che rispetto al miretti di turno è un po più avanti sia tecnicamente che qualitativamente ma è pur sempre un giovane che in teoria potrebbe potrebbe mettere la maglia addosso della juventus quindi ma è tutto tutto da verificare detto questo sappiamo benissimo del ridimensionamento al quale andremo incontro quest'anno cioè non credo sia una novità né ci siano dubbi su quello che è il diktat della società per quel che riguarda questa sessione di mercato e quel che per quel che riguarda il proseguo negli anni della tipologia del sistema con il quale vorranno operare bisogna autofinanziarsi bisogna fare in modo che come visto per Kuluseski ne tenentano 30 ne spendi 7 per Milik li gestisci ma ci deve essere una fattibilità nelle operazioni e su questo posso essere anche d'accordo vedo persone e ascolto e sento via chat persone che sono scontentissime e ma va via eventualmente Vlaovic va via eventualmente Chiesa come faremo che cosa prenderemo signori e amici cari amiche abbiamo sei più o meno personaggi sui quali possiamo riuscire a fare quelle operazioni corrette per avere degli introiti e poter prendere qualcosa sul mercato hai la possibilità di cedere bremer vlaovic chiesa uno dei tre ovviamente non penso tutti e tre nella maniera più assoluta o inserire persone giocatori come fagioli healing o sulle che possono farti abbassare il costo dei cartellini in eventuali operazioni da qui non si sfugge non abbiamo cosa fare ho visto anche ieri che è stato accostato il nome di castagna ex atalanta come laterale destro alla juventus è già più di uno storce il naso ma vi ricordo che il nostro laterale destro è de sciio e che sandro e quadrato saranno diciamo cancellati dalla con la maglia della juventus quindi non so perché iniziamo ogni volta la tarantella che qualsiasi personaggio venga accostato si inizia già a sminuire o l'ha scelto allegri l'ha scelto quello l'ha scelto quell'altro questa è la nostra condizione attuale di questa ne dobbiamo prendere atto dovesse arrivare castagne sicuramente è molto meglio di de sciio questo è senza ombra di dubbio poi si parla anche di odrio zola quindi voglio dire a me sinceramente come calciatore non dispiace neanche lui quindi stiamo calmi cerchiamo di capire in che direzione si può andare a parare anche se lo sappiamo ve lo ripeto per quello che la società ha in mente quindi amici cari e amiche cari del canale torniamo indietro negli anni ricordiamoci della presentazione di rinaudo eddy traorè e all'epoca era marotta che le faceva quindi il dirigente che tanti hanno incensato per mare e per terra come il dio del calcio erano gli anni in cui arrivavano borriello vucinic quagliarella matri estigarribia elia isla poi arrivavano anche dei giocatori lì in mezzo simpatici funzionali veramente che si sono poi manifestati bravi come pepe come l'ick steiner ecco si riuscivano a fare dei colpi un po così e dei colpi discreti purtroppo l'unico handicap di questa volta nel post farzopoli 2.0 amici cari e che purtroppo mentre quella volta partimmo da una spina dorsale fortissima buffon pirlo del piero e sul campo e negli spogliatoi quindi erano fondamentali adesso purtroppo si naviga a vista anche per quei che riguarda lo spogliatoio perché consentitemelo e concedetemelo per me questi calciatori non sono degni di essere capitani per quello che intendo realmente io come capitano della juventus signori e signori un grande abbraccio dal vostro nick juve mi raccomando continuate a farmi salire con le visualizzazioni soprattutto con gli iscritti quindi mi raccomando iscrivetevi 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 un grande abbraccio dal vostro nick juve buon sabato a tutti e al prossimo video ciao